buonasera dalla voce di chi non ha oggi un video importante un video che faccio col cuore e quindi veramente vi prego guardatelo tutto fino alla fine cercate di condividere nelle vostre bacheche facebook e ovunque innanzitutto prima di incominciare metti un bel pollice in su e condividi il video fatto ok allora io oggi voglio abbracciare tutte quelle persone che sono stati o che sono offese senza aver fatto nulla agli altri mi rivolgo a te che ogni giorno ti dicono obeso obesa grassone grassone accesso sfigato ti offendono ti umiliano ti prendono in giro in maniera più o meno pesante ecco io ti abbraccio e ti dico non farti non farti buttare giù non buttarti giù non voglio neanche raccontarti un mondo che non esiste la maggior parte delle persone sono così cattive superficiali spregibili maggior parte ma non tutte esiste una minoranza di persone buone empatiche chi non ti farebbe non ti farà mai del male e sentiti orgoglioso se tu anche se uno che non fa del male che purtroppo il rischio qual è che fuori a divenire offesi derisi maltrattati poi per sfogarsi col tempo si inizia a prendere di mira qualcuno non farlo perché se continuiamo a reagire alla cattiveria e alla violenza con altrettanta violenza cattiveria anche verso altri il mondo sarà sempre una sciofeca e quindi non puoi neanche più lamentarti non puoi lamentarti di ciò che hai subito la cattiveria della gente se anche tu quando trovi magari qualcuno più facile di te apparentemente sei cattivo e quindi frena questa esigenza di sfogarti a meno livello razionale e poi tutto verrà da sé renditi orgogliosi orgoglioso del fatto che tu interrompi queste catene e non ti sfoghi con cattiveria nei confronti degli altri e orgoglioso di te stesso perché non sei come loro allora io ti abbraccio veramente ti abbraccio come se fossi tuo fratello tua madre tuo padre tuo migliore amico ti dico io non sono come loro e come me ci sono altre poche magari persone in questo mondo che non sono così cerca di fare parte anche tu di queste persone anche se c'è un senso di giustizia che lo capisco come sono qui non ho fatto niente perché mi devono prendere di mira è un senso di impotenza ma come sono qui tranquillo buone perché mi devono prendere di mira perché mi devono bersagliare che nessuno fa niente non so ma tu devi sentire orgoglioso di non essere così e di non essere di non diventarlo mai e poi per allargare il discorso mi voglio rivolgere anche quelle persone che al di là delle offese delle delisioni subiscono delle ferite sempre per coppa della superficie della gente mi riferisco per esempio ai primi approcci con l'altro sesso no quelle ragazze che magari sono usate da dei ragazzi magari dei ragazzi superficiali bugiardi che per andare a letto magari si inventano degli amori io ti amo e poi magari vieni a scoprire che con gli amici ti trattava come una prostituta ti diceva diceva parlando di te io ho detto che la amo così questa me la date ma in realtà per me è solo una puttana ci sono scopri può scoprire di venire usati ecco non farti non farti non buttarti giù per questo non tutti i ragazzi sono così non non devi pensare che il mondo maschile sia tutto uguale non devi incattivire tua volta puoi prendere in giro un maschio stessa cosa ovviamente al contrario ci sono magari ora forse più difficile le femmine che parlano di amore e usano un maschio solo per il sesso è ovvio che però può esistere per esempio una ragazza che il giorno prima ti dice che ti ama ti vuole bene poi a un certo punto scompare e tu rimani lì sei giovane impreparato fragile rimani lì era una certezza scompare non si fa più sentire non ti risponde più ti casca il mondo addosso ecco non incattiviti non fa la tua volta così puoi delle femmine in futuro perché se non lo fai se non lo fate continuate a essere quello che siete sarete eroi che cercano di migliorare questo mondo e anche se subiscono cose brutte non si fanno condizionare e a propria volta non diventano emanatori di bruttezza e di cattiveria io veramente come se fossi vostro fratello vostro padre vostra madre il vostro migliore amico vi abbraccio tutti ragazzi offesi a scuola derisi a scuola presi in giro da ragazzi presi in giro da ragazzi traditi da amici creati ad avere un amico e poi scoprivate scoperto che vi usava soltanto per un passaggio per comodità e poi vi offendeva quando era quando si faceva comunella con altri vi abbraccio tutti col cuore mi dispiace che in questo mondo avvengano tutti questi orrori perché alle volte poi io sento parole l'amore la solidarietà come concetti astratti sono persone che magari esaltano il volontariato la solidarietà il dare i soldi che so agli africani in generale oppure adozione alla distanza poi però mi vai a vedere magari sono gli stessi che fino all'altro giorno offendevano qualcuno o che tuttora offendono gli altri alla prima occasione prendono in giro sono bugiardi ma che senso ha che tu aiuti il bambino africano nel sud est asiatico o cerchi di aiutare i poveri dello zimbabwe poi quando si avvicinano a te delle persone sei così sgradevole così disumano così poco empatico forse la solidarietà che dai all'africano e per cercare di fatti un lavaggio la coscienza sporca che hai e nella nostra vita dobbiamo dimostrare di tenerci agli altri che dobbiamo dare agli altri dobbiamo imparare a dare agli altri abbraccio tutte le persone che hanno sofferto per la cattiveria per il poco tato altrui che sia stato una grave mancanza di rispetto una piccola mancanza di rispetto vi abbraccio ad uno ad uno perché probabilmente non lo meritavate e vi abbraccio ancora più forte veramente un abbraccio infinito se siete tra quelli che non si mettono per ripicca a fare male agli altri perché in quel caso oltre al mio abbraccio avete anche la mia stima e una parola anche vi rivolgo complimenti ti sento ti sento vicino a me un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti